Musica Buongiorno, buon mercoledì 8 febbraio Si apre l'edicola di 8 Channel con tutte le principali notizie del giorno Partiamo subito da Roma con la doppia apertura dedicata alla cronaca Il caso del ragazzino di 14 anni con la pistola in classe appoggio reale Ma anche Vanacore ucciso per uno sgarro A guato tra la folla a Ponticelli il bersaglio era già sotto indagine Intanto il caso del 14enne, vedete, denunciato per porto d'arma Il 15% dei ragazzi è vittima di aggressioni Ma c'è anche il festival di Sanremo Ieri sera il grande butto, standing ovation per Mattarella La Turchia con la caccia all'italiano che non si trova E caccia ai superstiti e corsa contro il tempo E poi ancora al Monaldi, false dichiarazioni I medici finiscono a processo Questa è una rapida sintesi della prima pagina E intanto taglio alto anche il caso dello sbarco dei migranti Fermati tre scafisti Trovati sulla CIEI Quattro arrivata a Napoli Preso anche De Tommasi Junior, ancora cronaca L'evasione a Porta Capuana Arrestato il nipote del boss Tante notizie sul Roma Andiamo subito sul primo piano I migranti fermati tre scafisti Sono due gambiani e un senegalese I viaggi della disperazione Questi tre uomini sono accusati di favoreggiamento aggravato Dell'immigrazione clandestina Erano a bordo della CIEI Quattro Arrivata lunedì a Napoli Intanto vedete nella sintesi Un egiziano e un sudanese Ascoltati come testimoni Il secondo sarebbe stato picchiato Avrebbe pagato l'equivalente di 600 euro Per salire su un barcone in Libia Sui cellulari dei tre indiziati Foto mentre guidavano un gommone E screenshot delle rotte Vediamo anche cosa succede in retroscena Di questa disperazione Che attraversa le onde dei mari Tra mille pericoli Tra morte e disperazione Il racconto dei testimoni Andiamo all'interno del testo E' stato acquisito il diario di bordo Consegnato dal comandante della CIEI E sono stati sentiti due testimoni Il primo ha raccontato Di essere arrivato in auto in Libia Di non aver subito violenza Ma di non sapere Quale sia stato il costo del viaggio Che gli era stato pagato dai genitori Il secondo ha detto Ha detto di essere arrivato Attraverso il Chad E di aver sborsato 3.000 dinari libici 600 euro europei Ed essere stato picchiato Dall'esame dei cellulari La sequenza del viaggio Le screenshot delle rotte E le coordinate satellitari Di Lampedusa E le condizioni del meteo Tutti elementi che hanno consentito Di mettere assieme Concreti e gravi indizi di colpevolezza Per i tre uomini Intanto Nella residenza di Ponticelli Tra timori e speranze Restano 11 ricoverati All'ospedale del mare Oggi i minori Non accompagnati Finiscono a Miano Ovviamente ci sono tanti ragazzini Che non hanno i genitori Li hanno persi a bordo della nave Sono partiti senza parenti E familiari Che dovranno trovare Un altro destino Intanto Tra queste persone C'è chi vuole continuare gli studi Chi racconta Di essere stata in Libia Per un anno e mezzo Prima di poter andare via Intanto L'arcivescovo Don Mimmo Battaglia Arcivescovo di Napoli Dice I poveri ci salvano Ci salvano I 107 fratelli e sorelle Che sono arrivati a Napoli Quindi dopo le dichiarazioni A cuore aperto Del governatore De Luca E del sindaco Manfredi Arrivano anche le parole Del vescovo di Napoli Picciano Esperienza unica Ma non mi sento Un eroe Le parole del medico Che si è calato Per primo Dall'elicottero Sulla nave ONG Che emozione La braccia Con una mamma E i suoi figli L'organizzazione dell'ASL Ha consentito Di avere il quadro preciso Prima dello sbarco E di poter organizzare Ovviamente I sistemi La macchina operativa Per l'accoglienza Ma vi anticipavo Dall'apertura Il caso Della periferia violenta Il 14enne Che entra in classe Con una PPK La pistola Di James Bond Ovviamente Un'arma finta Senza tappo rosso E' stato denunciato Intanto La Presidente Vedete Della Commissione Antica Morra Della regione Campania Dice Va allontanato Dalla famiglia Ma intanto Sono tanti gli interrogativi Su un caso Che scuote Napoli Che invita A riflettere Vedete Aveva una replica Perfetta Di una Walter PPK Nella foto Famosa per essere stata L'arma preferita Da James Bond L'agente 007 Ma questo Verrà purato Soltanto In un secondo momento Quando la pistola E' caduta Priva del tappo rosso Che identifica Ovviamente Le repliche E col fusto Disegnato Per essere portata Comodamente Nei pantaloni Ovviamente La professoressa Si è impietrita I compagni di classe Ha sghignazzato La professoressa Non l'ha toccata Per paura Raccontano i carabinieri Bullismo Difficile Far capire Ai ragazzi Che è un reato La consulta Il tessuto Giovanile Terreno fertile Per questo Fenomeno Borderline Tra realtà E videogames Quindi non solo I modelli Negativi Ma anche questa Costante Vita virtuale Che i ragazzi Vivono Tra cellulari E giochi Online Corso alla ricerca Dei sopravvissuti Ci spostiamo Tra Turchia E Siria La lotta Contro il tempo Contro il freddo Sferzante Per trovare qualcuno Ancora vivo Tra le macerie Sono oltre 6.000 i morti Ma il bilancio Si aggrava E gli aiuti Arrivano Da tutto il mondo Mentre un italiano È ancora Irintracciabile E poi La raccolta Dei beni Di prima necessità Nella sede Dell'Opi Di Piazza Carità Gli infermieri Pronti a fare La propria parte La guerra In Ucraina L'Unione Europea Vedete La lotta Le disinformazioni Russa Botta in risposta Borrell Cremlino Il portavoce europea Difendiamo la libertà Di espressione Mentre Mosca dice Dimenticano Il terzo Reich Covid La nuova variante È poco pericolosa Vogliamo darvi anche Questo aggiornamento Sulla variante Kraken Che è molto contagiosa Ma non ci sono Condizioni di allarme Vogliamo fornirvi anche Con l'aiuto Ecco appunto Della zoomata I dati Degli ultimi positivi In campagna 509 E ovviamente Complessivamente I dati Dei tamponi Processati Sono stati 10.493 Quindi la curva Del contagio Si abbassa Flette verso Il basso Sensibilmente A Caserta Intanto PNRR Blindato Contro la criminalità San Giuliano I carabinieri Che hanno lavorato Col progetto Pompei Vigileranno Sugli appalti Il rischio Infiltrazioni E il convegno Dei dirigenti Sulla PA Sulla pubblica Amministrazione Ancora Continuiamo a sfogliare Laura Per la morte Due rinvie A giudizio Siamo a Benevento La giovane Di 22 anni Vittima di un incidente Processo Per il Conducente Proprietario Del veicolo Ma torniamo Nel napoletano Nuovo arresto Per De Tommaso Siamo a Porta Capuana Pieno centro Di Napoli L'avevamo anticipato Anche Dalla prima pagina Il 38enne Detto Pokemon Nipote del boss Gennaro A Carogna Accusato Di evasione Sembra proprio che Mario De Tommaso Lo vediamo Nella foto Detto Pokemon Non riesca a tenersi Lontano dai guai Dopo il doppio arresto Incassato nel 2019 Il nipote Dell'ex ras Di Forcella Gennaro De Tommaso A Carogna E' finito nuovamente Dietro alle sbarre Stavolta E' per un'evasione La cattura di De Tommaso E' avvenuta lunedì sera Quando gli agenti Del commissariato Transitando su via Carbonara Hanno notato L'uomo Che alla loro vista Ha tentato di eludere Il controllo Introducendosi il rapidamento In uno stabile Una mossa Che ha destato sospetto E che ha consentito Appunto Di beccare De Tommaso E poi C'è il caso Delle donne Rapinate tra i quartieri E l'avvocata Ha preso il 53enne Salvatore Miano Identificato Grazie alle denunce Delle vittime Ma anche Alle telecamere Della videosorveglianza Che sono sbarcate Nel cuore di Napoli E avrebbe rapinato Due donne Lo vedete nella foto 53 anni L'uomo E' stato assicurato Alla giustizia L'apertura Vincino Aide Micco L'omicidio di Ponticelli Federico Vanacore Avrebbe pagato Con la vita Un vecchio sgarro Nel 2017 Era sospettato Di essere Uno specchiettista Vediamo anche Il volto Della vittima Una foto Del luogo Dell'agguato Federico Vanacore Era monitorato Nel 2017 Quando i poliziotti Ne seguivano i movimenti Nell'ambito Di un'indagine Sui gruppi Dei fuoco Dei clan Di Ponticelli E i fiancheggiatori Specializzati Negli specchietti Allora Non emersero indizi Ma intanto La sua storia È andata avanti Avrebbe pagato Con la vita Appunto Un vecchio sgarro Tante notizie Oggi su Roma Ce ne sono tante altre Sfogliando il giornale In edicola Ma adesso Torniamo sulla nostra Carrellata generale Guardiamo le nostre Prime pagine E torniamo sui temi Internazionali Con Repubblica La Repubblica nazionale Il tempo dell'Arabia Il titolo di oggi Ovviamente Parliamo dei soccorsi In Turchia I ritardi Ad Ancara Le case costruite Con materiali Scadenti Scatenano l'ira Degli sfollati Contestato il governo Aleppo Isolata dal mondo D'Assad Che blocca Gli aiuti Internazionali Sì degli Stati Uniti Alla solidarietà Ma il tutto Aggirando Damasco Vogliamo mostrarvi Anche un'immagine Comunque Del dopo sisma Tra Turchia e Siria Che sia anche di speranza Che oggi La Repubblica Porta in prima pagina Vedete Si chiama Frim Siamo in Siria L'è non nata Partorita orfana Sotto le macerie La mamma è morta La piccina È sopravvissuta Miracolosamente Ma sono anche i giorni Del festival Della musica italiana Cambiamo diametralmente Argomento Benigni canta a mattarella La costituzione Antifascista Vedete la prima Di Sanremo E appunto Il monologo Di Benigni Che ha tenuto Altissima L'audience Per La tv di stato Torniamo sul tema Della Turchia Noi abbandonati L'ira Degli sfollati Minaccia Erdogan Contestato Un ministro Adana E il presidente Degli architetti Rivela Le case nuove Fatte con materiali Scadenti La denuncia Di un superstite Gli sotto Ci sono 25 persone Ho chiamati I soccorsi Ma non arriva nessuno È davvero complicatissimo Riuscire ad aiutare Le persone Che sono ancora Viva sotto le macerie Perché Arriva più di una richiesta Di aiuto Dai superstiti Emersi dalle macerie Che indicano Dove si trovino Le vittime E appunto I sopravvissuti Ma anche Appunto Qualche proprio Grido Qualche Grida Qualche richiesta Di aiuto Che arriva da questa Montagna di disperazione E morte Un paese in guerra Isolato E senza soccorsi Ma intanto Assad Blocca Gli aiuti internazionali Distrutte le strade Che portano All'unico valico Disponibile Per i convoi I Stati Uniti Dicono sia La solidarietà Ma senza passare Da Damasco E massacra I civili Dicono Ancora Miracolo sotto le macerie Vi abbiamo fatto Vedere la foto Di questa neonata Nata sotto le macele Il cordone umbilicale La legava alla madre morta Una storia davvero Drammatica Ma anche che Racconta sempre La speranza Della vita Oltre ogni tragedia Abbiamo sentito Un rumore Vediamo il racconto Mentre scavavamo Abbiamo ripulito La zona E abbiamo trovato La piccina Intanto è ansia Per Angelo Zenn L'italiano Con la valigia In Turchia Per lavoro Tecnico Industriale Vive in provincia Di Venezia Ma si trovava Appunto In una città Epicentro del sisma Di lui non si hanno più notizie L'ultimo contatto Con la famiglia Risale a domenica scorsa Quindi a prima del sisma L'esercito Dei volontari Senza frontiere Sbarcati i primi italiani Sono tre medici Otto infermieri Cinquanta Vigili del fuoco Lazio e Toscana Le prime regioni Che hanno mandato aiuti Moschea e cattedrali Da Malatia Da Aleppo Il sisma Cancella la storia L'altro racconto È quello Della bellezza devastata Della tragedia Della violenza Dei tesori Distrutti Dal terremoto Nella città Più antica Del mondo Danni al tempio Del dio Hadad Mentre Iskenderun È crollata La cattedrale Proprio qui Dell'annunciazione I danni Sono davvero Incalcolabili In termini di Vite umane E distruzione Intanto i satelliti Vi raccontiamo anche questo particolare Per guidare le ricerche L'agenzia spaziale europea Coordina I soccorsi da frascati Cerchiamo anche A distanza Di provare A rendere più rapidi Gli aiuti Per provare Soprattutto A salvare vita E soprattutto Vi mostriamo Le immagini Della devastazione Vedete Qui siamo A Malasia I danni Alla Ieni Camilan Moschea nuova Di Malasia Era stata costruita Nell'Ottocento A seguito di un terremoto Vedete Il prima e il dopo E poi anche I crolli Nella cittadella Di Gansiettec Con uno splendido Circuito Un po' di politica Appunto Tiro a segno Nelle scuole Fazzolari Nega Ma i bufera Il sottosegretario Ne parla Col consigliere Militare Di Meloni Discutevamo Di addestramento Delle forze Dell'ordine Le opposizioni Intanto Vanno all'attacco Nostalgia Per libri E moschetto Salvini Idea non illuminata Il premier Il caso Non esiste Quindi ancora scontri All'interno Del governo E poi Uniti verso il voto Ma il boom nei loni All'arma Forza Italia E la Lega La riunione Dei leader Di centrodestra Teatro Complimenti Tra leati Berlusconi dice Mi sono affezionato A Giorgia Lei dice Silvio Miglior ministro Degli esteri E le regionali Lombardia Vanno avanti Con appunto Prove d'intese Che cercano Di compattare Le forze Del centrodestra Dai temi Nazionali E internazionali Adesso apriamo Il nostro Consueto Approfondimento Tutto Campano Sulle varie province Partiamo da Napoli Partiamo da Repubblica Napoli Guardiamo la prima pagina Il rischio Infiltrazioni A Caserta Nel popolo Dei Dem Le tessere Sospette Vengono Avviate A Roma Allarme di Roberti Presidente Della commissione Per il congresso Boccia Si dimette Da commissario E accusa De Luca Ed Oliviero Basta Sultanati Il partito Va ripulito Ancora Andiamo di spalla Il bonus Cultura La truffa Milionaria Sono coinvolti 5.852 Maggiorenni 18 anni Di comprare libri Proprio non avevano Intenzione E Grazie alla truffa Messa in campo Appunto Dalla libreria Di Ercolano Intascavano cash Da parte Parte Parti Dei 500 euro Del bonus Cultura Scusate 18 App Soldi che utilizzavano Anche per scommesse illecite Organizzate Sempre nello stesso Esercizio La truffa È stata scoperta Dalla finanza E sono ben 5.852 I neo Diciottenni Che tra il 2017 E il 2019 Avrebbero Monetizzato Il bonus Per comprare I libri Andiamo All'interno Il primo piano Cinema E 44 Da regione Ora i tempi concreti Per dare il via Alla scuola Dema La protesta 200 lavoratori In catene Stop al piano Salvate la fabbrica I sindacati Contro De Luca Non si presenta mai Quando le cose vanno male Stanno smantellando Un'eccellenza Ieri lo sciopero Davanti Palazzo Santa Lucia Contro i tagli Del 50% Annunciati Dall'azienda Quindi i fermenti Delle forze Lavoro Campane Il caso del PD L'abbiamo visto In prima pagina Continuiamo A sfogliare Repubblica La truffa Da oltre 2 milioni Soldi del bonus Cultura Usati per aprire Un B&B In una delibera In una libreria Di Ercolano 5.852 Neodettici ottenni Vi abbiamo già spiegato Che appunto Hanno monetizzato Il cash Del bonus E poi L'arrivo a Napoli Della SIA I fattro For con i bambini Presi tre Scafisti Erano tre Le accuse Adesso le indagini Che vanno avanti SOS Gelo Intanto Il comune Riapre la stazione Del metro museo Per risenza Dimore Una delle zone Con la galleria Principe Maggiormente presidiata Dai Clashard E c'è una marcia indietro Di Trapanese Che riapre la galleria Proprio per consentire Ai Clashard Di accamparsi In questa settimana Di freddo gelido E poi la favola di Luisa Nata sul traghetto Tra Ischi e Pozzuoli La bambina Vedete la foto irreale E' nata appunto Ieri all'alba Mentre la mamma Cercava di arrivare In ospedale Per partorire Fortunatamente Era in compagnia Del suo ginegologo E intanto Vico Equenze In ritardo a scuola 17 anni Scivola sulla strada Ghiacciata Cade dal motorino E muore Aperta un'inchiesta Per la morte Del giovanissimo Sequestrata alla Salma E intanto La tragedia Di Stefano Celentano Addolora La divina costiera Torniamo sulla schermata Guardiamo anche Un'altra prima pagina Quella Delle cronache Di Napoli Crivellato Di pistola Per uno sguardo Il 33enne Ponticelli Vanacore Ammazzato davanti A centinaia di persone Abbiamo già visto Su Roma Questa storia Di cronaca E poi Tra taglio centrale La truffa milionaria Di Ercolano Sul bonus Cortuna Fortuna E cultura Scusate Poi il caso Di Vico Equenze Con il giovanissimo Morto In motorino Tanta cronaca E poi Lo sport Napoli In gaggio top Per trattenere Spalletti Contratto fino al 2025 4 milioni a stagione Pienone anche domenica Contro la Cremonese Finalmente Numeri da record Al Maradona Intanto Ad Arzano Incendio Che preoccupa Al rogo La tela di Penelope La struttura comunale Era già finito In passato Nel mirino Della Camorra Cambiamo provincia Guardiamo la schermata Ci spostiamo Da Napoli A Caserta E torna L'incubo Delle barelle Per i malati Che rimangono Tra Sant'Anna E San Sebastiano Sulle barelle per ore Il leader degli infermieri Mezzi in trappola Così è impossibile Garantire Le cure E poi Mancano i posti letto I pazienti Restano sulle ambulanze Minaccia una coppietta Col coltello Preso Siamo a Trento La Ducenta L'uomo Ha tentato Di rapinare I fidanzatini Ad Aversa Bloccato da un poliziotto In servizio A casa Pesena Un po' di politica Sempre in terra di lavoro Marcianise L'operazione Benedetta Da Fratelli d'Italia Lega Forza Italia Pesca In stato confusionale 3-0 per i bianconeri Che senza soffrire Spugnano la Rechi Apertura Box di Piazza Cavour Lavori fermi Il giallo Della concessione Roberto Celano Denuncia Dati per 99 anni Pur avendo la disponibilità Di un diritto di superficie Per alcune aree Solo per 30 anni Il terzo lotto È bloccato Mentre è in atto Il contenzioso Taglio alto PD Tutti contro boccia Tutti contro tutti Boccia nel mirino L'apertura è un omaggio a Puccini Con l'opera Della stagione lirica di Verdi Abbiamo visto un po' insieme La prima Andiamo all'interno Del punto Delle cronache di Salerno La notizia di apertura E come vendere La fontana di Trevi Il comune rischia Siamo nel box Di Piazza Cavour Da palazzo di città Sarebbe stata ceduta La concessione Per 99 anni Pur avendola acquisita Solo per 30 anni Con il deluchismo Vige un'autonomia Differenziata Sull'urbanistica Torniamo sulla schermata Anche la città di Salerno Foto delle amiche Sui siti 8 Immagini spinte Rubate col telefonino Postate Denunciato un giovane salernitano Vediamo questa notizia di cronaca Foto di minorenni Universitarie Madre di famiglia Completamente nude In atteggiamenti Ose scattate col cellulare Per lo più in vacanza Nelle camere da letto E in discoteca Così decine di giovani donne Di ogni età Tutte residenti A Palomonte Sono finite Con tanto di nome e cognome A loro insaputo Insaputa Nel pericoloso vortice Della rete internet Perché le loro foto Sono state pubblicate E condivise da uno studente 22enne Dello stesso paese Su uno dei più seguiti Siti web Di pornografia italiana E così L'amico delle giovani Il bravo ragazzo di paese Si è trasformato In l'autore di un incubo Per decine di malcapitate Vittime che hanno sporto Denuncia Ai carabinieri Una storia davvero incredibile Che arriva Dalla provincia salernitana Basta incidenti Intanto Ecco la zona zero Ponte Cagnano Faiano SOS sinistri Il sindaco Lanzara Impone il limite di velocità E a battipaia Troppe cause e ferie negate 23 mila euro All'avvocato Quindi tanta cronaca Anche sulla città di Salerno Ma adesso Dall'informazione cartacea Cambiamo modulo di informazione Ci spostiamo sul portale Ottopagine.it Per tutte le news in tempo reale L'apertura è su Ercolano Truffa sul bonus 18 app 9 indagati nel napoletano Gli sviluppi Eccoli E poi guardiamo insieme Anche tutte le aperture Delle varie province Andiamo sul Napoli Giallo Manzo Il GIP Spella firma la proroga Delle indagini Per altri mesi Sono 6 in tutto Per la proroga Siamo a Prato Principato Ultra E poi ancora il dramma Acqua Melito Irpina Ancora una perdita E uno stilicidio Si chiude di nuovo Sarà anche oggi Una giornata nera Nelle case Nelle attività commerciali Della zona della Valle Ufita Poi Benevento Mamma morta Il figlio indagato Per omicidio colposo E occultamento di cadavere Il dramma di Durazzano Giovedì L'autopsia Dell'89enne Trovata senza vita In casa Vediamo Sarà eseguita appunto L'autopsia Sull'89enne Lo farà nel corso Di un'udienza Nel quale è invitato Per consentire L'eventuale nomina Di un consulente La storia Difeso dall'avvocato Roberto Abbatiello Che sta valutando La possibilità Di scegliere Uno specialista Vincenzo Che soffre di problemi Psicologici Il figlio della donna E' stato interrogato Ha provato a spiegare In una condizione Di evidente Stato confusionale Il suo comportamento Con la paura Che volessero Fargli male L'uomo aveva Chiesto Di non aprire la porta E Si era opposto Anche alla stessa Sorella Al medico di famiglia E appunto L'hanno trovato Con la madre Morta in casa Torniamo su Benevento Guardiamo anche Il primo piano Colpo nel garage Di casa Di una persona morta Ha condannato Un 26enne Poi dammi soldi O ti incendio L'auto Un 27enne Viene rinviato A giudizio A Benevento E ancora L'avvertenza De Macam La protesta Arriva a Napoli Il tempo Sta per scadere Il dramma Lavoro Nei tempi Di crisi Andiamo su Caserta Oliviero Replica Boccia Commissario Sì Ma liquidatore Del PD Quindi le tensioni In casa Dem E poi Boccia Indignato Da quanto sta accadendo A Caserta Un campo impraticabile Quindi il primo piano E l'apertura Su Caserta È tutto Dedicato al tema Della politica Ci spostiamo Su Napoli Migranti Fermati Tre scafisti Apertura anche Di altri quotidiani Poi Napoli Polverizzati Vaucer Per l'Eintracht Intanto si ferma Ostigard In 20 minuti Prenotazioni Finite Il norvegese È bloccato Dall'influenza Siamo su 8 pagine Sport E poi Migranti Fico Attacca il governo Donne e bambini Tenuti in mare Per giorni Il miracolo Sul traghetto L'abbiamo visto Di Luisa Che nasce in mare Il terrore Dei quartieri spagnoli Del resto Di un 53enne Che aveva In poche ore Rapinato ben due donne In una zona Di grande Rivitalizzazione Turistica Andiamo a Salerno La salernitana E la Juventus Finisce con Una 0 a 3 E appunto 30.000 Tifosi Delusi Alla Rechi Ancora lo sport Nicola Penza Già al Verona Lunedì Sarà partita Importantissima Guardiamo anche Il primo piano Piero De Luca PD Controlli rigorosi Sulle tessere Poi controlli A mercato Sanseverino Sulla differenziata E scattano Le multe Senza pietà Per chi inquina Per chi non differenzia I rifiuti Rapidamente Anche la campagna Rimborsopoli In regione A campagna Condanne Cinque E due assoluzioni Il terremoto In Siria e Turchia La messa in sicurezza Che viene invocata Dal presidente Lombardi Dei costruttori E la solidarietà Che viene espressa A questo popolo Devastato Dalla tragedia E con questa notizia Ci chiude l'edicola Di 8 Channel Vi ricordo I prossimi appuntamenti Con l'informazione Alle 14 in punto Con il TG News regionale E alle 14 e 30 Con il TG Sport Grazie e buona giornata Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.